Grande fratello, Beatrice Luzzi colpita da un attacco di panico dopo la squalifica dell'autore, il torace oppresso, la sensazione di soffocamento, vertigini, il malessere imminente, la paura di morire o di perdere il controllo sono solo alcuni sintomi di un attacco di panico, un'esperienza intensa e spesso incontrollabile per chi ne è affetto. Beatrice Luzzi, concorrente del Grande fratello, ha vissuto un momento di estremo disagio dopo la squalifica dell'autore. In un primo momento, la verità era stata mantenuta segreta, nessuno ne parlava, fino a quando una direzione imprudente ha causato una censura tardiva proprio mentre Beatrice raccontava a Fiordaliso dell'attacco di panico e dei disordini che ne sono seguiti. La calma è giunta solo quando gli autori hanno informato Beatrice che la decisione di farla trascorrere del tempo nella spa non era stata facilmente accettata. Il doppio standard diventa evidente, poiché non si sa come Anita avrebbe reagito a una richiesta simile. La rivelazione di Beatrice ha messo in luce l'astuzia e la cattiveria di chi orchestrava il piano, diventando chiaro che la decisione sulla data di arrivo dei veterani alla spa è stata presa dopo la rivelazione di Beatrice sulla data di sepoltura del padre. L'assenza di rispetto per i sentimenti è evidente. Colpire emotivamente una persona, soprattutto sulla perdita di una persona cara, è un atto discutibile. La reazione incontrollata di Beatrice avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La narrazione sottolinea come questo non sia il vero spirito della televisione, ma piuttosto un esempio di quanto l'aridità umana, l'ipocrisia e il male possano causare. Il messaggio negativo trasmesso agli spettatori riflette una mancanza di rispetto per i sentimenti e il dolore altrui, un comportamento che va oltre ogni ideologia e interesse. Don Alfonso, in Beyond Killing a il reality show, mostra come sminuire e insultare non debba essere accettato come normale, ma il pubblico sui social network sembra troppo coinvolto nelle fazioni da stadio per comprendere appieno il concetto del rispetto reciproco.